Sporcizia e degrado al villaggio artigiani di Foggia, dove da alcuni cassonetti traborda immondizia, rendendo difficile anche solo passarci vicino. Come nel caso di Via del Feudo d'Ascoli, dove dinnanzi ai cassonetti c'è praticamente di tutto, da scatole di diverse dimensioni a pezzi di mobili, finendo per le buste. Proteste da parte dei commercianti, che gettano regolarmente i rifiuti nei cassonetti e che lamentano un abbandono della zona da parte delle istituzioni. I problemi sono tanti e vanno dall'immondizia, che rappresenta un'emergenza anche a livello sanitario e igienico, all'assenza di segnaletica nelle aziende, per finire con le strade che in diversi punti sono al limite della praticabilità. Insomma, l'emergenza continua e ora più che mai il villaggio artigiani necessita di interventi per ripristinare, quantomeno, il decoro della zona.